E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Minecraft per PS4 Ragazzi dovete scusarmi se non sto seguendo gli orari prestabiliti sulla copertina video Ma ogni tanto non ho un cazzo da fare quindi faccio un video Ok iniziamo subito Clicchiamo su gioca Creiamo un nuovo mondo, lo chiamiamo YouTube per riconoscerlo più facilmente Ok, modalità sopravvivenza, difficoltà normale Ok, credo che possiamo iniziare E niente, aspettiamo che carica il mondo Ok Ecco il nostro mondo Andiamo subito a prendere un po' di legna Per iniziare Ok Ragazzi vi velocizzerò questa parte perché Prenderò all'incirca uno stack di legna Per la legna E riconoscerò se mi vedrò a non farvi annoiare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok ragazzi Rieccomi qua Ho appena finito di raccogliere Uno stacco di legno Ora possiamo trasformarlo In una stacca di legno Non tutto perchè ci servono per fare 3 trocce Quindi le lasciamo 5 Ok Credo che basterà per fare Una piccola casa Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Ok ragazzi Andiamo ad inserire le cose più fondamentali Graffi table Devo fare delle torci Aspettate Devo andare a prendere quel legno Che ho consumato Per fare Il tetto Ok Raga poi in futuro Cambieremo caso Allora ragazzi Siamo qua Facciamo tutta la merda Facciamo tutti gli attrezzi fondamentali Ok Aspettate un attimo Ok raga dovevo prendere un po' di legna Non lavorata per fare quel tipo di carbone Non so come si chiama Ah si è antragile Un po' di animali per Prendere il cibo Per impiedere la fame Ah si dobbiamo anche fare l'elettro Quindi uccidiamo anche le pecore Ok Ragazzi c'è stata un'altra pepa Sì cambia Ok rilanciamo un attimo le torse che è brutto stare al buio Ah si è vero ma io devo fare la porno Ma guarda sono stronzo Lo facciamo prima nel letto Qua Piazziamo a random Quindi lo mettiamo qua Ok Ora sicuramente i mostri stanno bruciando Oh cazzo Prendiamo un attimo Il ciotolo Per fare Scappiamo un po' di ciotolo Per fare La fornace Per fare gli attrezzi di pietro Che cazzo No porca pittana Non ci credo Vabbè dai Meno male che ho piazzato il letto Vabbè Non fa niente Ok diamo tutto Prendiamo un po' di ciotolo Credo che possano bastare Cos'è qua Non so perché sia così Vabbè Ok Allora facciamo La fornace Eccola qua Siamo qua E mettiamo a cocere Il legno di quercia Però Visto che so stronzo Non ho nemmeno l'attrezzo Mamma mia Sto proprio da rubendo Ah no ce l'avevo Vabbè Dovevo piazzare sotto le porte qua Sennò gli animali Sennò gli animali Sennò sempre Vediamo tutta questa merda di legno Facciamo tutto in pietra Facciamo tutto in pietra Ok Ok Andiamo a cocere Gli altri due cose di lavorata Iniziamo a fare Quattro torce Per eliminare un po' la casa Prima all'esterno No Vieni a morire Vieni a morire Mi ti devo dire Ok No Non so faccio Facciamo le porte Ok Ok Facciamo le porte Ok Non so faccio 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 Facciamoci prima il casco Ok Ok Allora ragazzi Credo che Questo mio episodio possa venire qua E noi ci becchiamo a presto Grazie